wrestlingomics lo sappiamo è un sito che parla di economia legata al mondo del wrestling lo so che sembrano noiose queste cose ma sono il trend sono veramente una finestra sul futuro per quanto riguarda il domani della nostra disciplina preferita e attenzione perché qua ci sono dei dati ci sono dei dati presi da amazon che ha iniziato a trasmettere la nfl quindi la lega americana di football e questi dati cosa ci dicono per farla breve per non diventare pazzi ora quella che vediamo nella prima riga sono gli spettatori in milioni il blu è amazon i tre pezzi rossi che vengono aggregati sono quelli della abc più i due canali della espn il verde sono gli ascolti sempre del football sulla nbc quindi amazon si difende è terza ovviamente come visualizzazioni ma tuttavia i numeri non sono così brutti addirittura in alcune settimane perché ogni gruppo si riferisce a una settimana successiva all'altra di campionato in alcune settimane i numeri di amazon sono molto vicini a quelli aggregati di abc più espn come vedete nella quarta giornata nella ottava nella nona i due le due righe sotto invece parlano per le stesse giornate degli spettatori tra i 18 e 49 anni e guardate la colonna blu di amazon quanto si alza in alcune giornate va quasi a contendere la leadership della mbc e se andiamo sotto c'è un'altra scrematura spettatori tra i 18 e i 34 anni quindi 15 anni in rispetto al ai dati sopra riportati e guardate la colonina di amazon quella blu combatte spesso per vincere la giornata e amazon è solo un provider la espn più ebc che vengono aggregate insieme la superano in alcune circostanze ma non sempre riuscirebbero a tenere le testa da sole anzi quasi mai quindi occhio che amazon sembra avere attratto su di sé per il football un'utenza importante e molto molto giovane che è quella che wwe potrebbe desiderare un'utenza giovane quindi i consumatori del futuro amazon che sta sperimentando con lo sport ha dei dati attuali inferiori alla tv chiaramente per quanto riguarda i milioni che guardano ma estremamente estremamente importanti per quanto concerne la demografia di chi guarda le età età molto basse 18 34 numeri importantissimi e cosa dice questa analisi dice che molti young adults quindi molti giovani adulti spesso guardano il football nfl più su amazon prime video che sulla espn e espn 2 e gli young adults sono il l'indicatore leader per quanto riguarda il trend della tv del futuro e se si analizzano questi dati la wwe e altri che propongono contenuti simile simili dovrebbero iniziare a pensare ad amazon o a piattaforme simili come luoghi importanti da coinvolgere per la vendita dei propri diritti tenendo conto che prime video ha comunque ancora grandi possibilità di crescita in in quanto a rich in quanto a raggiungere chi ancora non si è abbonato insomma non è amazon prime o servizi analoghi non sono soltanto un archivio ma sta dimostrando di poter raggiungere anche enormi audience per le dirette e di questa cosa è stato discusso nell'ultima conferenza per gli azionisti connessa ai bilanci trimestrali con wwe che al contempo ha rinnovato i diritti delle repliche di raw in next day rights quindi i diritti per la trasmissione del giorno dopo con ulu probabilmente non si è sicuri allineandoli alla scadenza per quanto riguarda quelli di smackdown quindi ha rinnovato quelli di raw che erano finiti e parrebbe che li abbiano allineati a quelli di smackdown che sono in mano a ulu su sublicenza di fox stando a quello che ritengono gli esperti di questo sito probabilmente i second day o next day rights scadranno nel settembre 2024 in accordanza in concomitanza con la scadenza dei diritti degli show principali del primo passaggio perché questo perché darebbe alla wwe una leva maggiore in fase di trattativa e in più se ci fosse amazon interessata o una piattaforma similare avrebbe entrambi gli show in vendita come diritti next day quindi primo passaggio in tv canonica repliche on demand dal giorno successivo da 24 ore dopo su amazon il fatto che wwe possa vendere questi diritti ad amazon potrebbe addirittura aumentare il valore degli stessi per quanto riguarda le tv canoniche qui dicono le nostre aspettative sono che almeno uno degli show più importanti rimanga sulla tv tradizionale il più probabile è raw anche perché wwe ha una relazione commerciale fortissima con la mbcu mentre che smackdown vada su amazon è una forte possibilità ma anche se ciò non dovesse verificarsi il fatto che ci sia questa opzione potrebbe far aumentare le offerte della mbcu della fox e di altri per ottenere a qualunque costo i diritti della wwe io credo dice chi ha scritto il pezzo che la wwe abbia una finestra di negoziazione esclusiva con i suoi partner attuali ed è vero almeno per l'italia è sempre stato così quando manca un anno alla fine del contratto quando i diritti stanno per scadere nel momento in cui manca un anno chi li detiene ha sei mesi di trattativa privilegiata sei mesi in cui wwe fissa il prezzo e se va bene la trattativa è chiusa senza sentire altre campane senza che ci siano rilanci senza che ci siano concorrenti quindi è ragionevole pensare figuriamoci che questa cosa sia valida anche in america quindi il prospetto che amazon possa entrare nella partita potrebbe incoraggiare le emittenti televisive ad alzare l'offerta per ottenere degli accordi d'esclusiva smackdown potrebbe essere lo show sotto osservazione perché pare che fox non sia sempre soddisfatta degli ascolti che ottiene e potrebbe essere quindi smackdown l'evento settimanale che allarga il mercato quando inizieranno le trattative probabilmente subito dopo l'avresta il menia di quest'anno ad aprile e potrebbero chiudersi nel giro di pochi mesi dopo che sono state aperte e al momento è ragionevole pensare che oltre alla mbcu e a fox mbcu ha anche peacock amazon entri nella partita come potenziale contendente leaders quindi uno che fa un'offerta non credo che apple invece sia della partita perché associarsi al pro wrestling comunque comporta dei rischi non sempre in fase reputazionale è utile e la sensazione è che apple non voglia mettere piede in questo ambiente mentre per quanto riguarda warner brothers discovery warner bros discovery è più probabile che continuino la loro partnership con la all elite wrestling tenete presente che qui si parla di warner bros discovery america che fa dei contratti per il suolo americano ma che in giro per il mondo ne fa altri con aziende anche concorrenziali con all elite wrestling e infatti in italia wwe è su warner bros discovery su canali di questa entità ok quindi non pensiate che se un gruppo compra in america allora comprerà in tutto il mondo non è assolutamente vero c'è anche paramount che ha lanciato i suoi servizi di streaming però qui la vedono come una properties troppo giovane unproven sugli sport che forse ha bisogno di un po' più di rotaggio quindi attenzione perché i movimenti dei prossimi mesi soprattutto dopo Wrestlemania potrebbero dipingere un futuro forse addirittura inaspettato per quanto riguarda Smackdown ovviamente si parla anche della ESPN ma visto che WWE ha una partnership con Peacock il pensare e la MBCU il pensare di differenziare i prodotti su piattaforme così in forte concorrenza sembra un po' fantascientifico e uno potrebbe dire ma è strana questa situazione perché i diritti degli sport continuano a salire malgrado i numeri d'ascolto diminuiscano e l'offerta sia sempre più frammentata e paradossalmente è questo il punto fondamentale l'offerta frammentata in mille rivoli in mille fiumi rende quei prodotti che fanno grandi numeri sempre più appetibili se tu hai una sigla un contesto uno sport una lega che fa numeri grandi per il momento che stiamo vivendo i soldi aumentano i soldi sono sempre di più perché avere un contenuto o non averlo aumenta il divario tra chi te lo propone e chi non ce l'ha per questo le sigle più famose gli sport più richiesti anche se hanno tutti gli spettatori in calo continuano ad aumentare il loro valore di mercato per quanto riguarda i diritti televisivi perché fanno la differenza richiamano ovviamente la pubblicità e il più delle volte in buona parte riesci a ripagare l'investimento ma oltre a questo rimani a galla rimani nel mercato quindi l'outlook per la vendita dei diritti WWE sembra molto molto buono e visto che comunque il modello di business sulla tv tradizionale è in declino può davvero essere il caso che con il prossimo rinnovo la compagnia decida di fronte ad un'offerta adeguata di rischiare i diritti magari di second day quindi non di diretta di second day su una piattaforma come Amazon sempre che Amazon non dica no no io voglio tutto e cacci sul tavolo un sacco di soldi quindi è una situazione molto molto interessante questa pochi mesi fa c'era la sensazione che ma ora ci sono questi dati qua con il football americano ed è un trend importante perché noi abbiamo visto sempre su questo canale dei grafici nei quali il pubblico della WWE appariva tra i più anziani tra chi seguiva gli sport in America ma c'è una vastità di nuovi consumatori che la tv non l'accende nemmeno che guarda on demand che sceglie magari di abbonarsi perché gli piace qualcosa e poi su quella piattaforma ne trova altre di cose che gli piacciono e va avanti uno magari si abbona ad Amazon Prime per vedere Tolkien qualcosa rispirato e poi vede che ci sono i cartoni animati gli OAV gli speciali e allora si guarda anche quelli poi diciamo c'è il calcio oppure uno si abbona per il calcio e poi trova la filmografia e va a vedersi quella quindi attenzione perché mettere il piede su un diffusore di contenuti come Amazon o similari può veramente fare la differenza perdi numeri almeno come massimali di spettatori nel breve ma rischi di guadagnarli nel lungo perché mentre la tv retrocede i servizi streaming aumentano il loro reach abbiamo visto e in più vai a coltivare spettatori nuovi i diritti second day o next day di replica potrebbero diventare la riete usato da WWE per entrare su questi mercati che ancora non è riuscita a fare suoi perché c'è Hulu in America che però è una piattaforma molto secondaria non vorrei dire marginale ma rispetto ad altri nomi più altisonanti e blasonati sì quindi questa è una notiziona snobbata da tutti perché chiaramente fa più clamore in seguire il rumor ma qui ci si gioca buona parte del futuro del wrestling che conta lo scenario ideale prendendo per buona questa analisi e questo sito è molto molto serio il best case scenario è che WWE vendesse veramente questi diritti second day ad Amazon e sarebbe strepitoso se anche All Elite Wrestling che è l'altra tv con una buona proposta televisiva intendo ripresa confezionata come Dio comanda sarebbe bello se anche All Elite Wrestling riuscisse a fare altrettanto magari su un'altra piattaforma perché in questo modo il wrestling che sia WWE o che sia di un'altra sigla ma non importa perché poi uno va a informarsi a vedere a cercare eccetera comunque riacquisterebbe o acquisterebbe per la prima volta valore espositivo di fronte ad una platea che magari non ha ancora intercettato quindi stiamo molto molto attenti perché WWE sulla dominazione geografica e culturale ha sempre puntato il suo futuro e qua si va proprio su quel terreno quindi occhio perché almeno in America può esserci un movimento che scombina quella che è la realtà attuale tant'è che nell'ultima conferenza e poi chiudo trimestrale Nick Khan l'ha detto chiaramente non mi ricordo se l'ultima o la penultima quindi il co amministratore delegato ha detto mi aspetto che arrivino offerte da queste piattaforme e quando dice queste cose la sensazione è che lui sappia già che arriveranno poi magari arrivano ma sono inferiori e non vengono accettate ma visto che questo tizio proviene da ambienti televisivi e conosce bene come gira quel mondo se dice così può darsi che lui un'offerta o un'idea di offerta ce l'abbia già sul tavolo poi magari non vince ma sa che arriva come quando dice faremo più show internazionali uno siamo in dirittura d'arrivo ce l'hanno già se dice così vuol dire che sono i dettagli ma ce l'hanno già ce l'hanno già se dice così show internazionali come clash of the castle per intenderci quindi vediamo vediamo che capita io fossi in wwe anche a costo di guadagnare qualche soldo in meno so che in america non ragionano così però anche a costo di guadagnare qualche accordo in meno se una piattaforma come prime mi fa un'offerta per i diritti second day io glieli do tutta la vita glieli do tutta la vita è vero fibrissimo può essere può essere può anche passare il messaggio fatevi avanti però non credo che questa gente ritenga che wwe non sia sul mercato lo sanno era l'ultima del q3 allora ricordavo bene eh quindi potrebbe cambiare anche il nostro modo o il modo di tanti magari nel giro di pochi anni di seguire il wrestling ma per me sarebbe un bene ampliare a prescindere la possibilità di essere scoperti vale per all elite ma vale anche per wwe voi non sapete quante persone incontri magari vado a giocare a magic o alle fiere e dicono ah il wrestling che figata peccato che sia sparito e io dico ma non è sparito siamo su dmax e se vuoi su discovery plus ah ma non lo sapevo ma da quando eh da tre anni eh ma io la tv non la guardo più e capite io la tv non la guardo più ho il mio cellulare dal cellulare faccio tutto vedo il calcio vedo gli altri sport vedo le serie tv e quindi sai ti viene fuori la serie tv e sotto ecco la nuova puntata di smackdown tu dici guarda c'è ancora re misterio oppure chi è questo qua mascherato wrestling vediamo cos'è e poi magari ti piace ti diverte dici otto esce una volta a settimana guardiamolo quindi secondo me non è tanto una questione di sigle o essere giovani è una questione di coltivare il mercato deve essere un obiettivo arrivare su queste piattaforme ovviamente per una compagnia già affermata come wwe questo obiettivo si sposa all'economia e ripeto credo che in america non ragionino spesso sull'idea del guadagno di meno ma intanto lì ci sono e in futuro guadagno di più è sempre meglio l'uovo oggi che la gallina domani è meglio così però in questo caso forse vale la pena pensare alla gallina domani grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti